Benvenuti nella Galassia Rattics. Oggi vi presento una moto straordinaria, Yamaha FZ 1000. Questa moto usata, immatricolata a maggio 2016, è in ottime condizioni e ha percorso solo 16.900 km. Dotata di un motore a 4 cilindri con una cilindrata di 998 cm3, la Yamaha FZ 1000 offre prestazioni eccezionali e un'esperienza di guida unica. Se siete alla ricerca di una moto potente e affidabile, questa è l'occasione che fa per voi. Non perdete tempo e visitate il sito motorattics.it per maggiori dettagli e per scoprire tutte le nostre offerte.